12. La grande artista. Chiusa la porta di casa, Martina e Filippa si ricordarono di Babette. Una piccola ondata di tenerezza e di compassione le inondò. Soltanto Babette non aveva spartito la felicità della serata. Allora andarono in cucina e Martina disse a Babette. È stato un ottimo pranzo, Babette. Il loro cuore si colmò improvvisamente di riconoscenza. Si resero conto che nessuno dei loro ospiti aveva detto una parola sul cibo, anzi per quanto vi si sforzassero loro stesse non riuscivano a ricordare una sola delle pietanze che erano state servite. Martina ripensò alla tartaruga. Non era apparsa affatto e ora sembrava molto vaga e lontana. Era veramente possibile che fosse stata soltanto un incubo. Babette si mise a sedere sul ceppo, circondata da pentole e padelle nere e unte, tante quante le sue padrone non ne avevano mai vedute in vita loro. Era pallida e mortalmente sfinita, come la sera in cui era apparsa per la prima volta ed era venuta sulla soglia della loro casa. Dopo un pezzo le guardò fissamente e disse «Una volta ero cuoca al caffè anglais». Martina ripetì «L'hanno pensato tutti che era un ottimo pranzo». E siccome Babette non rispondeva una parola soggiunse «Ricorderemo tutti questa serata quando voi sarete tornata a Parigi, Babette». Babette disse «Non torno a Parigi, non tornate a Parigi», esclamò Martina. «No», disse Babette. «Che farei a Parigi? Sono andati tutti. Li ho persi tutti, mesdame». Il pensiero delle sorelle andò a Monsieur Ersan e a suo figlio e dissero «Oh, povera Babette». «Sì, sono andati tutti», disse Babette. «Il duca di Morni, il duca di Decaz, il principe Narishkin, il generale Gallifet, Aurélien Scholl, Paul Daru, la principessa Paulina. Tutti». Gli strani nomi e titoli delle persone perdute per Babette confusero un po' le due signorine, ma in quell'annuncio c'era una così sconfinata prospettiva di tragedia che nel loro animo aperto alla comprensione umana soffrirono delle perdite di lei come fossero loro e gli occhi loro si riempirono di lacrime. Alla fine di un altro lungo silenzio Babette fece all'improvviso un sorrisetto e disse «E come potrei tornare a Parigi, madame?». «Io non ho denaro». «Non avete denaro», gridarono le sorelle come con una bocca sola. «No?», disse Babette. «Ma i dieci mila franchi?», chiesero le sorelle anzi mando inorridite. «I dieci mila franchi sono stati spesi, madame», disse Babette. Le sorelle si misero a sedere. Per un intero minuto non riuscirono a parlare. «Ma dieci mila franchi!», sussurrò lentamente Martina. «Che volete, madame?», disse Babette con grande dignità. «Un pranzo per dodici al caffè anglais costerebbe dieci mila franchi?». Le signorine non trovarono ancora una parola da dire. Quella notizia era incomprensibile per loro, ma quella sera tante cose erano state in un modo o nell'altro, al di là ad ogni comprensione. Martina ricordò una storiella raccontata da un amico del loro padre, che era stato missionario in Africa. Questi aveva salvato la vita alla moglie prediletta di un vecchio capo, e per mostrargli la sua riconoscenza il capo lo aveva invitato a un ricco pasto. Soltanto molto tempo dopo il missionario seppe dal proprio servo negro che la pietanza che gli aveva spartito era un nipotino grasso del capo, cucinato in onore del grande medico cristiano. Ella rapprividì. Ma a Filippa il cuore si struggeva in petto. Le sembrò che una serata indimenticabile si dovesse concludere con una indimenticabile prova di fedeltà e di abnegazione umane. Cara Babette, disse con dolcezza, non dovevate dar via tutto quanto avevate per noi. Babette avvolse le sue padrone in uno sguardo profondo, in uno strano sguardo. Non vera in fondo ad esso pietà? E forse anche scherno? Per voi, replicò. No, per me. Si alzò dal ceppo e si fermò davanti alle sorelle, ritta. Io sono una grande artista, disse. Aspettò un momento, poi ripetì. Sono una grande artista, madame. Poi, per un pezzo, vi fu in cucina. Un profondo silenzio. Allora Martina disse. E adesso sarete povera per tutta la vita, Babette? Povera, disse Babette. Sorrise come a se stessa. No, non sarò mai povera. Ho detto che sono una grande artista, un grande artista, madame. Non è mai povero. Abbiamo qualcosa, madame, di cui gli altri non sanno nulla. Mentre la sorella maggiore non trovava altro da dire. Nel cuore di Filippa vibravano corde profonde, dimenticate. Perché aveva udito parlare prima d'ora, molto tempo fa, del caffè anglais. Aveva udito pronunciare prima d'ora, molto tempo fa, i nomi del tragico elenco di Babette. Si alzò e fece un passo verso la sua serva. Ma tutte le persone che avete ricordato, disse. Quei principi, quei gran signori di Francia che avete nominato voi, Babette, voi stesse avete combattuto contro di loro. Eravate una communard. Il generale che avete nominato ha fatto fucilare vostro marito e vostro figlio. Come potete piangerli? Gli scuri occhi di Babette incontrarono gli occhi di Filippa. Sì, disse. Ero una communard. Grazie a Dio. Ero una communard. E tutte le persone che ho nominato, madame, erano malvagie e crudeli. Hanno fatto morire di fame il popolo di Parigi. Hanno oppresso i poveri e li hanno trattati ingiustamente. Grazie a Dio sono stata su una barricata e ho caricato il fucile per i miei compagni uomini. Ma tuttavia, madame, non tornerò a Parigi ora che le persone di cui ho parlato non ci sono più. Rimase immobile, smarrita nel ricordo. Perché, madame, disse alla fine, questa gente mi apparteneva. Era mia. Era stata allevata ed educata con una spesa molto maggiore a quella che loro, mie graziose signore, potranno mai immaginare o credere a capire quale grande artista sono io. Potevo renderla felice. Quando facevo del mio meglio, riuscivo a renderla perfettamente felice. si fermò un momento. È stato così anche per Monsieur Papin, disse. Per Monsieur Papin? chiese Filippa. Sì, per il suo Monsieur Papin, povera signora mia, disse Babette. Me l'ha detto lui stesso. È terribile ed insopportabile essere un artista, diceva. Essere incoraggiato a fare, essere applaudito per aver fatto meno del mio meglio, diceva. Per tutto il mondo risuona un solo lungo grido che esce dal cuore dell'artista. Consentitemi di fare il meglio che posso. Filippa andò da Babette e la strense fra le braccia. Sentiva il corpo della cuoca come un monumento di marmo contro al proprio, ma lei stessa si scuoteva e tremava da capo a piedi. Per un poco non riuscì a parlare. Poi sussurrò. Eppure non è la fine. Sento, Babette, che questa non è la fine. In paradiso sarete la grande artista che Dio ha inteso foste. Oh, soggiunse. E le lacrime le grondavano giù per le guance. Oh, come incanterete gli angeli.